Io credo che la memoria sia un esercizio faticoso, che ha bisogno di appigli, che la memoria sia un muscolo che va allenato, che richiede la stessa cura del corpo, solo che non ci sono palestre per questo. Non c'è qualcuno che ti allena a questo, devi farlo da solo. Non si paga, è gratis, serve solo tempo. Tempo chi ne ha? Tempo in lusso? Forse è per questo che queste cose paiono valere così poco o niente.